Signora, salve! Vi andrebbe di comprare Ciuditi? Salve ragazze, vi andrebbe di comprare il disco? Salve signore, vi andrebbe di comprare questo disco? Signore, vi andrebbe di comprare questo disco? Perché non posso Salve, buonasera, vi andrebbe di comprare questo disco? Quale è il disco questo qua? Quale è il disco? Vorrebbe... Vi andrebbe di comprare questo disco? Vi andrebbe di comprare questo disco? No, grazie! Vorrebbe un disco? No, grazie! Eh, ma non è che ti diamo Luca, non è che vanno! No, grazie, proprio no! No, grazie, grazie, sto bene! No, no, non! No!